Con Mr. Mimmo Di Carlo al termine di Spal Fiorenzuola, primo test contro una compagine di Serie C, un nuovo risultato positivo, una vittoria per 2-1. Quali sono le tue impressioni a Caldo? Sono molto contento dell'atteggiamento della squadra, della partecipazione dei tifosi. Penso che abbiamo visto una squadra più tecnica, un po' più rapida. Poi il primo quarto d'ora, 20 minuti di studio, poi nei secondi 25 minuti siamo stati molto bravi a fare gol e a creare tante occasioni. Quindi bravi, faccio complimenti al gruppo, alla squadra perché stiamo crescendo sempre di più. Era un test difficile contro una squadra ben organizzata che abbiamo visto che giocano molto bene. Però noi, davanti al nostro pubblico, abbiamo fatto un'ottima prestazione e sono molto contento di come abbiamo fraseggiato, abbiamo cercato di mantenere la squadra corta e anche siamo stati concentrati per tutto il primo tempo. Ecco, soprattutto nella seconda parte del primo tempo si è vista veramente un'ottima SPAL con la costruzione di belle trame offensive, un'intesa che sembra sempre più forte all'interno di questo gruppo, non solo dal punto di vista umano ma anche proprio dal punto di vista tecnico in campo. No, dal punto di vista tecnico è chiaro che stiamo crescendo. Oggi è stato un bel test per capire che stiamo sulla strada giusta. È chiaro che bisogna migliorare ma questo lo dice il campo. Ci conosciamo sempre di più, stiamo sempre cercando di mettere dentro ogni settimana una situazione nuova, ripetere le stesse situazioni nuove e vedo che la squadra comincia, quei principi di gioco che li sto cercando di metterci dentro, li cominciano un po' anche a trasformarli in campo con qualità e soprattutto con l'atteggiamento perché vedere Siligardi al 45esimo rincorrere e fare l'entrata scivolata, questo è un bel segnale per tutto il gruppo perché noi abbiamo bisogno di riconquistare il nostro pubblico così, con quella scivolata di Siligardi, di Luca Siligardi che è l'emblema di quello che deve essere l'atteggiamento della SPAL. In occasione dell'ultima amichevole mister avevi proprio battuto questo tasto dicendo dobbiamo essere bravi a entrare nella giusta mentalità con il giusto atteggiamento fin dal primo minuto perché la Serie C è questo. Possiamo dire che oggi c'è stata una conferma, un passo avanti anche su questo piano? Un passo, tre passi avanti, non un passo avanti, tre passi avanti e ripeto questi passi avanti vanno insieme a settimana dopo settimana che lavoriamo 25 giorni, 26 giorni che lavoriamo insieme alla squadra, non tutta la squadra perché adesso cominciamo a avere un po' tutti i giocatori, ci sono 15 giorni all'inizio del campionato e bisogna farci trovare pronti, anche se sappiamo bene che ci sono ancora tante cose da migliorare ma quando l'atteggiamento è questo, quando la squadra comincia a intravedere che oltre alla qualità ci vuole anche quella caratteristica, sappiamo bene che il Serie C fa la differenza che è l'essere anche umile e aggressivo, è un po' sporco e questo comincia ad esserci come impatto di questa partita qui. Mi è piaciuto il pubblico perché comunque hanno incitato per tutti i 90 minuti, sono contento perché stanno vedendo una squadra nuova, stanno vedendo una squadra che si dà da fare e stanno vedendo anche delle giocate di qualità che comunque questa squadra ha nel DNA.